come era la festa grande aveva un maglione da donna ed è ubriaco siamo bravi siamo bravi genitori mi chiamo simon sono come te ho una famiglia normale e degli amici incredibili a scuola lo sai che non è consentito inviare messaggi amico andiamo non voglio che i miei studenti usino tinder giusto quello è il mio territorio gran parte della mia vita è fantastica solo che ho un segreto davvero enorme ciao visto il nuovo post sul ragazzo gay non dichiarato chi pensi che sia caro blu sono come te nessuno sa che sono gay caro simon è bello sapere che c'è un altro a scuola con il mio stesso segreto quando l'hai capito caro blu tanti piccoli dettagli me l'hanno fatto capire come la mia prima ragazza io mi sono innamorata di te torno subito non è stato un bel momento vieni a prendermi i ragazzi bevono alcolici oh mio dio arrivo subito simon l'hai detto a qualcuno no blu non l'ho detto a nessuno dire al mondo chi sei è abbastanza spaventoso ebbi è la ragazza più sexy ah non è proprio il mio tipo non per la pelle adoro le donne di colore in realtà adoro tutte le donne caro blu non mi sembra giusto che solo i gay debbano dichiararsi perché etero è la norma devo dirvi una cosa sono etero mi piacciono le ragazze mi vuoi uccidere mi piacciono gli uomini oddio aiutami gesù ti prego simon vai al computer qualcuno ha pubblicato le tue mail sul blog della scuola mi dispiace simon non posso continuare sono soltanto io quello che deve decidere quando dove come e chi lo deve sapere e come dirlo doveva essere mia la scelta sono il tipo di persona che tiene così tanto a qualcuno da soffrirci tantissimo anch'io ho avuto la sensazione che nascondessi qualcosa tu sei sempre tu simon sei mai stato innamorato non lo so penso di sì caro blu magari non so il tuo nome o che aspetto hai ma voglio trovarti sono stanco di un mondo in cui non riesco a essere me stesso sei stato con me perché sono uguale a un ragazzo no in realtà ti ho lasciata proprio perché non assomiglia un ragazzo ok grazie figurati volete scoprire se il trailer entrato nella nostra classifica visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video ricordatevi inoltre di cercare screen week e di iscrivervi a tutti i nostri social youtube facebook twitter e instagram per ogni notizia sul cinema sulle serie tv per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite non perdetevi il nostro blog blog.screenweek.it volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone apple o android scaricate le nostre app screen week e screen week tv sono gratuite ciao